PRINC, la catena specializzata in cartucce per stampanti. PRINC, risparmi e stampi il doppio. Si parla ancora di ipertensione all'isola del Benapertura della stagione dei convegni 2016. Lo facciamo con il dottor Prigno Fabiani, che è organizzatore di questo evento. Un evento particolare, perché si parla dell'altra faccia della Luna. Come mai? Si parla dell'altra faccia della Luna, di un argomento, di una patologia o un fattore di rischio, se vogliamo, molto importante, perché interessa circa un quinto degli italiani, ovvero 12 milioni di persone. Quindi estrema diffusione, importante fattore di rischio, come potenza, e questi due elementi sono gli ingredienti per rendere l'ipertensione una condizione a elevata mortalità. Nonostante gli ipertesi ce ne siano tanti, ovviamente non rischiano tutti nell'immediato, ma essendo proprio perché sono tanti, così come l'influenza interessa un'ampia fascia della popolazione e di conseguenza a ogni ricorrere di epidemia molte persone muoiono per l'influenza, pur non essendo l'influenza una malattia letale, allo stesso modo l'ipertensione, interessando una grande fascia della popolazione, determina ugualmente un'elevata mortalità. Ecco perché ci interessa l'ipertensione rispetto ad altri fattori di rischio cardiovascolari, che comunque sono molto importanti, ma non altrettanto frequenti come l'ipertensione. Parliamo dell'altra faccia della luna perché ci riferiamo a quegli argomenti che normalmente rimangono un po' in ombra, così come il lato oscuro della luna, come per esempio l'ipertensione nel neonato, nel bambino, nell'adolescente, in gravidanza, nell'età avanzata. Ognuno di queste condizioni richiede un approccio personalizzato. Il medico di medicina generale è un attore importante in questa catena perché ovviamente le persone hanno un proprio medico di famiglia che deve essere istruito, aggiornato su questi aspetti. Ecco perché la grande apertura verso la medicina generale, quindi una cassa di risonanza a questo convegno esercitata da grandi nomi che vengono da tutta Italia. L'Elba rappresenta il catalizzatore ovviamente dell'interesse degli specialisti e anche la cassa di risonanza per aumentare la diffusione di queste notizie per tutti gli operatori interessati, medico di medicina generale, specialisti ospedalieri, infermieri, tecnici di laboratorio, biologi, tutti sono interessati a questo argomento. Grazie.